Restate a casa, chiudete le finestre, lavate bene frutta e verdura. La colonna di fumo nero che stamattina si è alzata sul cielo di Leverkusen dopo un'esplosione nella zona industriale ha messo in allarme tutti perché in questa cittadina, capitale della chimica tedesca, che ospita colossi come la Bayer, si producono sostanze altamente tossiche e a due passi c'è Colonia, un milione di abitanti, e poco più a nord Dortmund, oltre mezzo milione. Colpito settimana scorsa da alluvioni disastrose, il nord-ovest della Germania adesso fa i conti con un pericolo meno vistoso ma potenzialmente più letale, anche nel lungo periodo, perché certe sostanze vanno a inquinare le falde acquifere. Intanto si contano un morto, quattro dispersi e 16 feriti tra gli operai dell'inceneritore di rifiuti andato a fuoco, gestito dalla società currenta. Sappiamo che abbiamo fatto spaventare la gente, che ora ha paura, e stiamo facendo assolutamente tutto ciò che è in nostro potere per mettere la situazione sotto controllo il più rapidamente possibile, ha detto il direttore del polo chimico. Mentre il sindaco di Leverkusen ha chiesto di avere quanto prima l'analisi delle sostanze liberatesi nell'aria. I tre serbatoi in fiamme erano pieni di solventi organici e per precauzione ha fatto chiudere parchi e giardini pubblici. Mentre l'Ufficio federale per la protezione civile ha classificato l'incidente, di cui si ignora la causa, come minaccia estrema e raccomandato alla popolazione di restare in casa.